e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo sulla serie art core come si ho fatto un bel po di modifiche ho trovato un bel po di materiali come vedete vabbè un po di armatura in faro non crede che non abbia abbastanza per ferro perché tanto per ecco anche ora non proprio un casino ho trovato anche diamanti giurissimo non ho barato e oggi con voi mi sono fatto il piccone di diamante ho preso la ossidiana farò l'enchantment table quindi due diamanti per fare un libro un pezzo di pelle un canno da zucchero e ce l'ho sono in riva al mare ok ho fatto anche una farm di meloni perché perché c'è un pezzo di lana l'ho piazzato a casa perché nella nella miniera era tipo una miniera la con i vagoni quella dei ragni di solito ha trovato delle ceste o no sì delle ceste sui carelli sì ho visto anch'io ho trovato tantissimissimissimissimissimo ferro sì c'è due stack che passa comunque volevo dirvi che martedì molto probabilmente mi scarico minecraft sul computer e se trovo un app tipo registro e poi metto i video da la con l'account questo mio di youtube quindi sensivo ma se non cioè se vedete tipo che non laga roba così è perché ho cambiato tipo ho cambiato tipo perché i piantanti se ti servono alcuni non vedo l'ora che si potrei dare perché hanno appena aggiornato no scherzo qui ho fatto tipo una fornace che tipo puoi cucinare più roba e poi alla fine ti prendi direttamente il drop drop adesso eh sì quello no vabbè facciamoci il libro sì vabbè ovviamente esco boom direi di piazzarla in un'altra casetta sì vabbè ho fatto anche le porte di ferro perché mi ero rotta le balle questa è la casa della miniera guardate qui c'è la miniera un attimo qui c'è la miniera sì vabbè l'ho chiuso perché se non entravano i villager ok qui ho fatto il mio campo personale l'ho circondato sono i villager mi rubavano tutto piazziamone sta cosa no facciamo così faccio tipo una roba sottotterranea a casa mia e la faccio vabbè adesso vi salto sta parte bene allora intanto vi mostro qua prima non ve l'avevo fatta vedere questa è la forma di mucche e di pecor e si è di piccoli poi la stanza dell'ancienne table l'ho fatta qui tipo semi bunker e intanto ho fatto sì vabbè perché non c'è devo ancora crescere adesso vado a vedere bene qualcuno comunque vi stavo dicendo prima poi se trovo un'applicazione per registrare li carico c'è anche allora tipo senza l'albero questo mondo un altro uovi sto lag polino continua a pollare ecco cosa manca qua dentro un letto con l'astro ma comunque ho pensato il poche qua sul tablet quando vuole mia sorella registrati poi in un suo mondo nuovo ora così e fa le sue robe e poi tipo guarda il video cioè però ci sei anche perché non so mi serve il legno qui siamo ancora all'inizio qui tipo ho messo l'acqua in un punto guarda e arriva e poi qua no che l'acqua in un punto guarda non vedo l'ora no 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 Ah Ok Perché ho il pollo Sì Ricco il pollo Magari Evviva Aspetta Aspetta Mi ha dato due pezzi di lana Sono stato culato in sto villaggio Ho trovato anche le carote Cioè sarebbe stato meglio Tantissimo meglio le patate Perlomeno posso fare Tipo recinto per i maiali Dove prendere il legno Lasciamo tutta la roba che non ci serve La spada non serve a niente E se non mi vedete usare anche tipo mezza pelle Mezza 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 Roba è perché tipo voglio un po' più correre il rischio Mezza ferro Allora qui trasformo direttamente E facciamo la facciamo un pochettino di stanza Libreria Tipo adesso In canta fino all'otto Sì fino all'otto Perfetto Perfetto Allora Ragazzi Per questo video è tutto Mi raccomando Lasciate like Iscrivetevi al canale E Se volete tipo che vi porti La serie a un altro livello Ovviamente dovrò riniziare sul computer Però Tanto devo farci l'abitudine Perché comunque mai usato sul computer Un giorno 9 Eh Che voglio Sono difficile Togli Ecco C'è proprio a cap Non ho neanche lasciato nulla legna Non lo sono mostrato dietro Che furbo che sono Comunque Durante questo tempo Cercherò di andare avanti Con tutto Ragazzi Per questo video è tutto Di nuovo Iscrivetevi al canale Lasciate like Ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti